Stavo tenendo la live Ah, dialoli, fx, voice Allora Perché il camera non mi ha salvato in modifica Ok Allora Io, se prima ho provato ad unirmi Non mi fa niente Aspetta, proviamo così Ah, forse Aspetta, forse ho capito Devo far meno una partita Infatti, non fa niente Quindi mi sa A tempo che faccio una partita E poi Ah, ok, ho capito Ok Allora, intanto faccio una partita anch'io E appena finiamo Ok Una partita random Ma quanto ne hai pagato il gioco? 3,65 Potevo Quando c'è fatto la live Che era 1,84 Vabbè, dai, poco Ma magari te incontro in lobby Magari, magari Guarda, te lo dico subito Per ora no Per ora non ti... No, no, non ci sei Mannaggia, eh Adesso ho preso una nuova arma Per il... Per il chimico lì Per l'alchimista La donna tettuta Ho preso una specie di mega... E' quella lì Sì, immagino È una granatiera Sì, ah, uè Ho preso il multi-cannon Ho preso Adesso lo voglio provare subito Multi-cannon Che è Gatlin Sì, più o meno Ce l'ha fatto Eh, già Se lo vedi C'ha... C'ha una bocca Guarda Bellissimo Guarda, per stare alla pari Poi lo provo pure io Sì, non è Oh, la Peppa Allucinante St'arma Vediamo che succede No, però io Porca miseria Dovevo fare il tutorial Ma sì Il tutorial Non l'ho fatto Non l'ho fatto neanche io Guarda, il tutorial Synch your Online profile Che praticamente Non mi faceva entrare Completamente Perché non Avevo Sincronizzato Il profilo Ah, ho capito Noi Devo accettare Maronna mia Effettivamente È UP Questa qui Sì, sì Do qua sto ammazzando Di tutto Ahia, cavoli Mi faccio Su quelle pagine Sono un idiota Io più che altro Ho sempre paura Di rimanere da solo Perché chi rimane Da solo Qui è morto Se sei cacciatore No Sì, sì No Se sei cacciatore Ovviamente Se sei vampiro Sono un idiota Sono entrato In una cosa Sbagliato Dove Entrare Nel Loll C'ho 54 Di vita Eh no Sono morto Ho risolto Il problema Ah, eccolo Contro C Contro V Maronna mia Qui è uscito Un alien Da questo tizio No ma le mappe Sono fatte Veramente bene Mi piacciono Veramente tanto Ho visto che Tra il videotrailer Praticamente ho visto Che poi C'è anche quello Lì con l'arco Ma non ho fatto Sì, sì C'è, c'è Ho visto Che tu Che mi sembra Ma la fredda C'è, c'è l'arco Con l'arco Lo si sblocca Successivamente Io ho sbloccato Sì, l'ho visto Non ho capito bene Con che cosa Si sbloccano I personaggi Però C'è, sembra Sembra un oggetto Però non ho capito Se l'oggetto Lo prendi livellando O lo droppi In qualche altro modo Boh Ah, ok Forza adesso Forza adesso funge Proviamo Ok Ok Aspetta che Killo questo qua Ok Ok, arrivo No, no, no Non venire Non venire ancora Ok Mi hanno preso Vabbè Qua c'è il coso Per curarsi Chi se ne pega Già in match Calma Volendo forse c'è spazio Nel match Dove mi trovo adesso Perché siamo 4 contro 4 Mamma mia Mi ha preso Un infarto Che è successo? Gli effetti Che sono No, c'è presente Che quando 3, 2, 1 E fa quel Pum Si Ma se non mi parto Questa 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 Armoria Armory Ho letto Armonia Siamo Il titano Questo Questo Ok Allora Mo' devo prendere Io dimestichezza Quei controlli Ok Così faccio La mossa Del Del hunter Di Oddio Vada Del hunter Stavo dicendo Di left for dead Così faccio La schivata Con B Come hai detto Stai usando Il controller O mouse E tastiera Controller Controller Allora Sì Stiamo alla pari Su questo No ma Adesso sto usando Mouse e tastiere Io Vabbè Posso prendere Sempre Il controller Tanto è attivo Si stanno stuprando Quello volante È difficile Causare Ma veramente Tanto Porca trota Mi hanno bloccato Non è chiuso Nell'angolino Oh c'è un secondo Wow Wow che emozione È brutto Quando succede Il dottore Mi dice Che non è molto Consigliabile Allora Devo Devo essere Tattico Quindi andiamo In alto Ma c'è un tasto Di salto No Manco Ma che cavolo Mi hanno preso In volo Ha sapendo Prima che si può Saltare Ecco forse Come spicchi Il volo No no ma Ho capito Come si spicca Non è il problema Il problema È che non riuscivo A utilizzarlo Quello lì È difficile Alla fine Ci sono riuscito Però Ci ho messo Un bel po' Di tempo Ma che posso Alzare Il tuo volume Di Aspetta Vediamo se riesco Allora Mi sono Buggato Ero bloccato Sto facendo schifo Più che altro Prova a parlare Uno due tre prova Boh Sembra Uguale Forse sono Io che No 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 Ok no Ti ho sistemato Perfetto Ora Ti si sente bene Allora Oh cavolo Cerchiamo di fare Minimo una kill Ti accontenti Sì Ciao Stanno Stanno Fata frazzando Tutto Io mi prendo il corpo E me lo mangio qui Dalla gamba Gli fai un bel massaggino ai piedi Ma no Uno dei nostri Ha slogato Da dove c'è? Da dove vuole il lanciafiamme? Eh sapessi Di lanciafiamme Ha un'abilità Dell'alchimista Sì Non lancia una bomba Che Crea un muro di fuoco No no lanciafiamme proprio Ah lanciafiamme? Sì si possono avere varie abilità Questa cosa Non ero molto sicuro Ma Visti il lanciafiamme Direi che è confermata Sì no I vampiri sono sicuro Che possono avere Perché loro non hanno Armi Orbegini Hanno soltanto l'abilità Bastardo Eh ma qua perdiamo Perché adesso siamo Tipo tre No adesso siamo quattro E però per un bel po' Siamo stati tre contro Eh ormai abbiamo perso Cazzo Maledetti Oh è tosto Me l'aspettavo più semplice No no è difficile E che era facile Perché mi vedevi giocare Forza Come si dice Non lo è mai Non è mai quel che sembra Esatto Eh che cavolo Questo mi è venuto ancora a prendere Via 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 Dove cacchio son finito? Vieni qui No sono esploso malissimo Ma ho fatto una kill a minimo Una kill e un assist Va bene dai Danno a 600 Qualcosa Qualcosa E' sempre meno di nulla Esatto Ah hanno vinto questi qua Mannaggia Vabbè ti aspetto E io spreco le abilità Non c'è caro Maledetta Dopo voglio provare il treno Ah È forte cavolo quello lì Prima li ho beccati tipo Un bel gruppino Quasi tutti messi in fila Lo ho presi tutti Il problema è che c'era soltanto io Gli altri non erano arrivati Quindi ho sfondato tutto E poi mi sono divertito dietro Sìiii E io ti mangio Ti mangio Il cadavere mio Il cadavere mio Bule Ho fame Ho fame Adesso Ti mangio Ci mangio E come che era Majin Bu Sì, era lui Troppo forte Vuoi il cioccolatino? Te lo credo da una persona Oh Facciamo un cross the map Hai preso il piccione? Che col fatto che c'è il No, che col fatto che c'è il Megasalto, quello magro Bastardo, bastardo Bastardo, bastardo Colpisci mi ora Vai, guarda Via 46 di vita, direi che stavo per morire Dimmi quando ci sei Che intanto qua Controllo in giro E dai, curati Che penso Penso che non appena te avrei finito la tua partita Io ci sarò Ma io l'ho già finita Ah, l'hai finita? No Load out Ecco Ah Ora che posso Vediamo un attimo Allora Harmony C'ha una voce da presentatore Su gigantone Allora 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 Minchia che sberla che gli ho tirato Ho fatto la stessa visuale di kill Che si vedeva nel tuo Nel tuo Rim Sì Sì Triplo Faccio un triplo trenino Che figata Ci sono anche le skin diverse dei Protagoni Dei cosi Allora Trovo lo standard Ma non riesco a capire come si mette Non ce l'ho Comunque questo qui sa usare bene il pipistrello Sì Quando Allora La skill che usavo io prima Di prendere la jet E farla cadere Non è molto forte Però se la sai usare È fastidiosissima Perché ti prende Ti porta via E poi Ti ritrovi sempre da solo Abbastanza a distanza dagli altri E se Arrivano addosso Sono Cavoli Amari Mangiala Mangiala Bastardo Mi è fottuto il pranzo Trenno delle otto E Ha avuto un incidente Si è fermato Eh mi dispiace Capita eh Via Nelle fu Ok Comincio a capire come giocare Kill Fatto una kill Fatto una kill Fatto una kill Capire Zitti tu Fatto un'altra kill E Vincono i vampiri Round victory 6 kill 9 morti 9 assist Alla faccia Ciunghia Allora Va a Mo' la parte Mia preferita Quanti ne bloccherò Tipo Spara un numero Quante volte riuscirò ad utilizzare le palle che bloccano i vampiri Una Dice Zap Perché ogni tanto la voce di Elie Bragg diventa un disco dei Daft Punk Perché la sua connessione ogni tanto fa fa gibigiana E questo è un problema che mi ero scordato di avere Praticamente essendo che c'ho le wireless ogni tanto si scocchia Interferenza Non solo interferenza ma oltretutto con il fatto che non riceve bene l'audio cioè è di una qualità troppo elevata per le cuffie wireless ogni tanto la ricezione del microfono anche quella si Ah praticamente tu hai la wireless fino al computer e la wireless delle cuffie Eh si ma se tu astiera wireless è più le cuffie Ok Ma penso che ogni tanto ho visto che c'è mio zio che ha le cuffie quelle lì in ultra tecnologiche No ma tanto ti si sente ti si sente bene soltanto ogni tanto magari quando c'è casino diventi un Daft Punk Ok con calmi Unato mi hanno Quanto ti manca? Mi hanno 8-9 minuti totali circa Ok Se fanno 30 punti pure meno Più che altro io ho uno standardo che posso mettere da qualche parte perché ho giocato nel weekend al gioco Ma non so come cazzo si mette Non me lo dice Questo è stato da qualche parte che è saltato fuori Oddio Uh kill Nooo Forse posso di nuovo tirare su l'audio del gioco Praticamente c'è sta sto vampiro che è un vampiro praticamente possiamo definirlo della poste perché praticamente lancia mosche e altre cavolate Ah si 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 lo conosco anch'io ho visto un po' di mosche in giro fastidioso Soprattutto perché ogni tanto diventa anche invisibile C'è quello lì eh Non è che a me mi è spuntato proprio dal terreno Nooo non è che diventa invisibile il maledetto Molte dico eh Praticamente si traveste da tuo alleato Sì Perché praticamente avevo visto un vampiro andare dietro un palazzo poi Maledetto 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 Ci sono anche qua le Le spie come in life or death Cioè in team fortress Bene Penso che sia questo qua Rifornisciti Grande Teoricamente tu avendo preso Avendo preso il gioco mi sa che hai un bel po' di punti Di gemme da utilizzare Quello è blu 1750 Denari ma le gemme blu non le ho viste proprio Ah Capito Aia Aia Quello è blu Quello è blu Quello è blu Quello è blu L'accomogene non funzionano 58 euro Te ne prendi 20.000 Però 58 euro è tanto E sono pure poche Eh Però la cosa bella è che ci sono un bel po' di armi anche Un bel po' di skill Di skin proprio C'è C'è Diversità Mi piace questa cosa Mo faccio male Mo se piglio uno solo con l'alchimista Secondo me sono bottiglie di acqua santa Si Quasi che tira Può essere Con un po' di tnt all'interno Dato che esplodono Minchia il male che gli ho fatto Ah niente Non l'ho ucciso Comunque no è figo giocare col controller E' comodo Poi E' divertente Però Come avevi detto Era più immersivo Eh si 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 Assolutamente Bastardo T'ho visto T'ho visto Minchia L'ho santizzato Cos'è che gli hai fatto L'ho santizzato E' santificato E' arrivato il treno E' arrivato il treno Che praticamente l'ho sempre Hittato Con le granate No L'avevo quasi schivato No M'ero scordato Io mi scordo Delle abilità Dei Dei personaggi Che senso che ti scordi Le abilità Dei personaggi Nei due Che le ha Che ha le abilità Mi scordo che hanno le abilità I personaggi Ah ho capito Ovvero mi sono scordato Che avevo La Il La Flashbang Che è quella E il Muro E il muro Di fuoco Eh trenino Prendimi ora Tanto Non so per quale Oscuro motivo Ma Nightbot Ha deciso Di andarsene via C'ha il logout A breve termine Sì veramente Una cosa allucinante Tre minuti e mezzo E ci sono Ok infatti Devo Devo richiamarlo Sennò Questa se ne va via Minchia Questo qui Con le Aia No Non mi sono riuscito C'era 136 di vita Al maledetto Mi ha ucciso Al pelo Praticamente C'è 56 punti Di danno Me li son fatto Da solo Come non si sa Non farti Certe domande E' meglio Le sa Via 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 Aia La bomba di mosca Odiosissima Ma Ma certe cose Mi sa che te le regalano pure Aspetta eh Allora Aia Aia Ma non è questo Secondo me sono le gemme Che le regalano Ah Ma non ci sono le mosche Maledette mosche Ed era pure morto il maledetto Quindi aveva tirato la Ha fatto Come cod Al di là Match Victory Mamma mia E' un cheater Solo 5 kill Pensavo di averne fatte di più Sono stato il più scarso Ah Sono salito di livello C'è Solo 86 monete Mi prendi in giro? Va boh Non facciamoci domande Vediamo se ora funziona Ti ho mandato l'invito Ok Eeeh Prova Prova Eh Sono un idiota Mamma mia Te lo rimando Non è un problema No Sono Sono uscito Ho chiuso proprio Uno scotto Che dovevo uscire Dalla Istanza E ho fatto Ah Ho capito Lo gaussi Per facersi O uscire dall'istanza Pensavo Che c'era scritto Non mi andava di leggere Invece no Sono proprio uscito dal gioco Lol Saltiamo tutti i titoli di coda Ciao Vaniguard Benvenuto Se state provando Il party di Nosgoth Non funziona Come non funziona? Why? Come non funziona? Mi dicono in chat Che il party di Nosgoth Non funziona Proviamo Vediamo se Ah Dico Dice Dice che Forse è buggato Vabbè Proviamo Lo stesso Vediamo se Magari Abbiamo culo Dimmi quando Quando sei pronto Io provo Ah Ah no Aspetta Mi dice che Effettivamente Non riesco A gioinare Con te Ti da un errore Immagina Host part Aspetta Prova a gioinare Quando te lo dico Va bene No perché poi ho visto Un video Degli atti gaming Che sono un gruppo Di youtuber E hanno fatto un party E erano tutti Della stessa squadra Looking for best match Non vorrei che ti fanno giocato Finchè non se n'era Ma Valo a genare veloce Maledetto E' partito così Instant E invece A me mi ha messo In una lobby diversa C'è una lobby Dove ci sono Soltanto io Vabbè prova a uscire Uscire dalla 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 Non dal gioco Quit match Quit Ok Solo dal match Non dal gioco Quit dal match Peccato che non puoi creare Una mappa C'è una Una stanza Tutta tua Infatti Mi tira le largate Quando devo aprire Un qualunque menu Ah Ho capito Come si sbloccano Per sbloccare Ogni classe Ad esempio Per sbloccare Il vampiro Quello volante Devi raggiungere Un lock level On it Next Artifact Ogni Tre livelli Ottieni un artefatto E ti serve Per sbloccare Le classi Ah Ho capito Svelato A voglia Allora O se no Utilizzi Le Runestone Sì che sono Quella a pagamento Allora In Ah Play Sai Ma mi sa che era il team deathmatch Quello lì Europa Proviamo a fare Ecco Ogni regione Proviamo a fare solo Europa E vedere se ci trova Va bene Dimmi quando Devo Sì sì Vai No Non c'è nessuno Per ora Ti sto continuando a spammare Ma non succede niente Da sempre Per il solito errore Prova a gioinare Prova a gioinare te adesso Che sono da solo Eh no Vada Vada Ci sei Ci sei Ci sei Ci sei Ci sei Buoni tutti Fermi tutti Ci sei Io non mi muovo Tre ore e mezza Però sta facendo Non si muova nessuno Non respirare Per ora sta facendo Joining match Però non vedo Non fa altro Quindi vediamo se Però è strano Perché mi dice Lobby Uno su dieci Boh Mistero Sei entrato No Ancora no Continua a farmi Joining match A profusione Vediamo se provo A rifarlo Eh no Perché non posso fare Più join in match Ma qua non sta facendo Niente Sano Molto molto strano Beccato Allora aspetta Faccio il quit to match Ci riproviamo Perché aveva funzionato Ti avevo visto La schiavelosa Eh ma ho visto Praticamente La schiavelossa Aspetta 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 In vita Accetta 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 Vedi se riesce ad accettare Mi sta tirando All'allargata della vita Ok Ci sono ancora C'è ancora uno spazio Uno cd Forse devo fare dal No 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 sei dentro Sei dentro Teoricamente sei dentro Poi non so Tu quanta gente vedi in party Non si vede niente Ci sei solo tu Non no Non c'è proprio Il menu Non mi fa fare Ricerca Bene Non fa fare Join What the fuck Si è vero Zapp Peccato Ma tanto io Le live Le salvo tutte Su youtube Adesso Quindi chi se ne frega Aspetta Bonnie Eh no Non ci sei più Ah Niente Perché Provo a joinare te Aspetta join No faccio io Faccio io C'è ancora uno Spazio Confirma Dai You are not logged Into the party server Mamma mia Fammi entrare Maledetto No aspetta Esco io Ma prima Qualche secondo fa Qualche secondo fa Eri riuscito addirittura A entrare in party Perché ti avevo visto in party Poi però E' scomparso tutto Forse Su questo lato I server Non sono ancora ben programmati Per il join Tramite amico Molto probabilmente vero O forse proprio il gioco Ma Siamo semplicemente sfigati Venigard no Venigard mi diceva Che era bugato Quindi Devono sistemarlo E' un bug Show player card Send message Muta Invita Allora Prova a fare questo A fare Trova match Speriamo che me ne troviamo Praticamente Facciamo Provo così Cerco un match Finchè non ne trovo uno Con solo due persone dentro Poi Ti invito tramite il gioco Va bene Senza Senza fare invito tramite Steam Che mi sa che è quello Che dà più problemi Ma io continuo a fare i join Tramite il gioco Invite Invite Vai Vedi che io sono dentro La stanza però Allora Ora aspetta Mi dice In party Ok Te vedi qualcosa? Io vedo Joining match Come prima Però In lobby Ci sono soltanto io Ok Ok aspettiamo Solo un attimino Vediamo Sta facendo Il conto alla rovescia 3 2 1 Ti ha fatto entrare? No Sono ancora in attesa Ma che cavolo è? Infatti tu sei partito In deathmatch Non sono più No Mi sa che è veramente Buggato 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 Speccato Speriamo che lo sistema Speremo Speremo Se voi possiamo provare con Robocraft No ma Quello lì Stavo pensando È vero che È carino Però appunto Ho visto che A quanto pare In due Da veramente molto tempo Prima di poter partecipare Poi oltretutto Ci ho riflettuto Un pochetto E Come avevi detto te Non è molto adatto Per una live Le partite Dovranno anche Troppo poco Vabbè facciamo così Facciamo così Io adesso continuo Con la stream Con la stream Su Su questo qua Poi vediamo Se riparano il problema Magari ci può anche scappare Qualche live Faremo Un'altra partita Esatto Ok Ok allora Ci sentiamo Domani Ok O in chat Quello che vuoi O la prossima volta Esatto Ciao Elebra Ciao Ciao Ok Allora Quindi Continuiamo La Il massacro Adesso alziamo un po' Il volume Ma questo è l'audio Mettiamolo Circa Qua Dovrebbe andare bene Salva In that match Shara Shara La notte è giovane Sono io che sono vecchio Ops Forse è un po' alto il volume Un penti per la pazienza Grazie Grazie Sono un uomo molto paziente Proviamo questo Multicannon Allora Lì non c'è niente Io ho paura di stare da solo qua Sta da solo muore in questo gioco Ce l'ho dietro Ah no Non ce l'ho dietro Queste cose qua mi Spaventano sempre Ma no Dai Zap Perché Opam Vieni qua No Mi hanno fregato Che cavolo Adesso sei morto Bello Porca Puta E' successo niente I know They're out there I know they're out there Praticamente faccio più male Bella questa arma Cavoli Mi piace Dai piccione A terra Ma non a terra Andiamo un po' di qua Guardalo Boom Headshot Così imparano a scrivere Lascialo Ma dai Guarda con quanto è rimasto Brucia 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 Che ti faccio fuori Da morto Adesso Dovrebbero sistemare Qua è tagliato Per la morte Stiamo vincendo Stiamo vincendo Adesso lo prendo Ma perché mi fregano tutti le kill Aiuto ragazzi Aiuto Aia Stiamo giù Davide zappa Mi fai venire Voglio di prendere anche a me Una bella birra gelata Ci vorrebbe Secondo me Una bella birra gelata E un gioco in split screen E' il massimo Cioè Penso che non ci sia niente di più bello Di Di una Di una rimpatriata Con gli amici A bere una birra A giocare un gioco Sullo stesso monitor Split screen Stupendo Birra gelata però Eh Rigorosamente Perché con le calde Beh Mi serve un medikit Lì c'è un altare Quindi andrò Direttamente lì Con tante verdure Fresche da sgranocchiare Assolutamente no Non c'è Susy Insate Quindi Possiamo dire Che siamo tutti Dei bei carnivori Guarda come salta Staranocchia Li stiamo sterminando Cazzo Ma non ci sono più Vampiri Sono finiti i vampiri Dobbiamo andare a comprarli Possono bruciare Tra le fiamme Degli Ah Inferno Questa la vendetta Di sui Ma non è E' una scimmia Quella là Serve un altare Mi serve un altare Trova Ma come nuovo Sono come nuovo Ciao Guarda questo Peccato Non l'ho preso io Aia E che cavolo Mi sto grattando Arrivato Hulk Arrivato A dettare legge Guarda qua Posso neanche grattarmi Un attimo No Sinceramente Non ne sapevo niente Di una pizzata Ho visto Delle notifiche Su Su Twitch Magari L'ha scritto qualcosa Devrei controllare Twitch Io non ne sapevo niente Comunque Sarebbe anche Una bella idea Tutto sommato Perché sono solo Guardalo lì Guardalo lì Il vampiro Una piena E' vincere facile Sei secondi Abbiamo vinto Vittoria 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 Proviamo Di nuovo Il piccione Tutti col piccione Vi faccio vedere Le mie Bravure Di volo Allora Facciamo un bel volo No Ho sbagliato No ma non questo Non mi ricordo più Ah no è vero Era Era al destro Ok Cazzo Gli ho fatto Tantissimo male E' difficilissimo Da usare Questo personaggio Qui Però Se lo si sa usare E' devastante Oh ma non c'è neanche Un umano Via Questo Gli atterro là Guarda 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 No Forse non è stata Una grande idea Aia 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 Per te è imbarazzante anche con pochi Ma sì Dai chi se ne frega Sì siamo tutti qua in zona Tutto sommato non ci vuole niente A trovare un posto Cosa ti imbarazzi Dai tanto Siamo tutti Ormai siamo tutti Una grande famiglia Allora Quanto mi piace essere bersagliato Bam Aia Ciao Mark 431 Benvenuto all'inferno Vai piccione Vola Decollo Scrotovisione Ok allora vediamo un po' Facciamo Preso Preso Aia Porca Ma nooo Mi ha preso in volo Ma che cos'è Che è Chi è sto qua Legolas Oh la webcam è troppo piccola Poco Poco Esatto Zap Lo scopo è dare testate alle pareti E io sono Bravissimo in questo Guarda Sono primo infatti In questo Per esempio Potremente siamo tutti skip In evolo Aiaiaiai Adesso provo a prenderne uno Guarda Vediamo se mi viene E' difficilissimo eh Prenderne uno E' fatto Troppo non ne ho preso manco uno Spam Ma dai Ce l'avevo quasi fatta scappare Gioco venduto Ragazzi mi potete dire una cosa per curiosità Ma La webcam cioè la mia faccia La vedete bene oppure Preferite che Che aumenti la luminosità Oppure così va bene fa molto macabro In tema col gioco Scrotto visione Allora vediamo un po' Eh no Quello ce l'ho preso Adesso quando lo fa cadere Osti quanti sono No via 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 Aia Comunque dicevamo Zapp Per organizzarci bene Secondo me possiamo Usare Tranquillamente La pagina di facebook Magari possiamo usare Quella di oschi O La mia O quella di Chiunque altro Tanto non penso ci siano Problemi Dopo Aia Magari prova a sentire oschi Vediamo un po' Aia E che cavolo che sono Me l'hanno preso di mira E basta Vabbè ho capito Me l'hanno preso di mira Ma siamo tutti Tutti piccioni qua Ah ma siamo anche di meno No io prendo 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 il tizio brutto e cattivo Va ho capito Forse potrei centrarla meglio Proviamo eh Mi sento molto molto carino Mi sento molto molto carino Ciuff ciuff adesso vi acciuffo Arriva il trenino Salve Sono qui per voi Super strage Super strage Andiamo di mangiarcene uno No perché non me lo prende Dai Vabbè Andiamoci questo Sì ne fate Non c'è fretta Non scappiamo da nessuna parte Siamo tutti in vacanza Più o meno Allora Ho 1300 di vita E non ho paura Ad usarla Perché non è stata una grande idea Questa eh Che tradotto vuol dire Mi prude il culo Mi sa che mi sono preso le piattole Mi sono dimenticato di stirare le mutande O cribio la crostata nel forno Arrivò Dove vai? Dove vai? Yeah Crostata ai mirtilli Oia Sono Tarde li fa Eh vabbè Non potevo farci niente Ah tranquillo Elebrag E abbiamo vinto Grazie a una botta di culo E il mio ingresso in versione Mastrolindo Muscoloso Bambam 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 Quante mail che mi arrivano Ah è vero Elebragg guarda qua c'era scritto pure C'è un problema con il sistema del party E' vero C'aveva ragione Come si chiamava Vaniguard C'aveva ragione Oh mio dio Una freccetta in mezzo allo schermo Oh mio dio Sono bellissimo Sono bellissimo Vola piccolino mio Scrotto visione attivata Guarda che strage Va vaffan Culo Palo di merda Che cazzo ho messo il palo lì in mezzo Decollo Adesso gli No ancora non posso Sei Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Eh da non ho preso nessuno Anzi mi sono beccato tutti i colpi Diciamo che adesso Atterro Mi nascondo No dai è abbastanza semplice Neanche io lo so Ah cioè non mi si Non mi si rigenera la vita Completamente Mannaggia Perché Perché Ma perché Sei arrivato a fluttuare A mezz'aria davanti Ciao ragazzi Sparatemi Eeeh Ma che cacchio Ma porca ma Ma è pieno di pali sto posto Basta questi pali Ciao Eneas Grazie della canzoncina Molto bella Vediamo se riesco A prenderne uno Cavoli Non ho preso neanche uno Ah Mi vogliono morto Ma non mi avranno mai vivo Aia Aia Basta va Andiamo Terriamo va Che cavolo mi continuo a sparare Mi nascondo Ah Egli è braga È difficile che fai meglio di me In nitronic Sono un pilota nato Io mi schianto ogni tanto Le modalità Hardcore Quelle sono difficilissime Allora Voliamo un po' Ma che cavolo Erano lì che mi aspettavano Allora Siamo tutti morti Ci stanno veramente Smaciullando Io direi di cambiare E prendiamo Il nostro amico Pelatone Qua abbiamo bisogno Di Forza brutta Arrivo Cazzo Nasconditi Cretino Ma porca Sul nuovo pc Io guarda Sinceramente Ti consiglierei Windows 7 L'8 Non mi da Non mi da Sinceramente Una motivazione In più A passare Poi vedi te Io mi trovo benissimo Col 7 Poi considera Considera Che i numeri Dispari Di windows Fanno sempre Cagare Porca Troia Che male Mi hanno Spappolato Lano Sì ma ci stanno Veramente One shot 11 a 1 E che Ah ma perché Siamo in 2 Ma grazie al cavolo Vabbè Ultima morte Poi cambio zona Perché questa qua Sinceramente Fare da carne Da macello Non mi va Guardagli la Vedo se lo prendo Che almeno faccio Una fottutissima Kill Aia Mi hanno lanciato Addosso Penso Una bomba Atomica Ah quello è Vero Cosa sono Le direct x Che numero Sono Che ormai Ci ho perso Il conto 12 Ecco Eneas Per quello Di più Intendi Che dolore E tanto qua Stiamo Straperdendo Quindi Direct x 12 Devono essere Magnifiche Si tanto adesso Guarda cambio Quitto il match Perché Veramente Stiamo Stiamo Straperdendo Quindi Io da fare Da carne a macello Non ho molta voglia Quindi Quitto Bellamente Allora Playiamo In that match Il piccione Umano Adesso lo prendo Subito Enea Il piccione Umano Quello Con lo Scroto Visione Giusto Quest'acqua Sta di erba Non è un buon segno Che poi c'è anche L'atmosfera Giusta Perché è tutto Buio Uggioso Potrebbe Come nella Scorsalive Potrebbe comparirmi Un vampiro Dietro la schiena Qualcosa Di questo Tipo Qua Eeeh Nightbot È arrivato In chat Bravo Nightbot Sa Quanto Rimarrai In chat Ultimamente Mi stai Dando Problemi Che Arriva Poi Se ne va Poi arriva Poi se ne va Nel frega Niente Lui Cazzeggia Waiting For More Player Cavoli Zapti Si è trovato In metropolitana Un ape Sul braccio Penso che Una cosa del genere Non accadrà Mai Più Come il cavolo Ha fatto Quell'app A finire Lì dentro Metropolitana Ma l'ha pagato Il biglietto Ma la gente Entra Esce In continuazione Facendo così Non si partirà Mai più Vabbè ho capito Troviamo Troviamo un'altra Stanza Sarà la stessa Di prima Sicuro Come loro Fottuta Ape di merda Vabbè Tanto devi pensare Che l'ape Dopo che ti punge Ti muore Quindi A che punto Sono con Dark soul 2 Eneas Allora Ho finito Mi mancano Due boss Mi manca Il drago antico E Quella specie Di boss Che sembra La morte Che ti fa Molto male Molto Molto male Mi mancano Quelli la Mi mancano Poi ho finito E dovrei passare A new game plus Che figata Questa mappa Molto bella Però diciamo Che l'ho un po' Lasciato Aia Porca Puzzolina Proviamo Proviamo A prendere L'hunter Cambiamo un po' Che punto C'ho anche La nuova Belestra Super balastra Da distruzione Porca Trota Non ti sono No Sono morto Sono morto Sono la cosa Più vicina A un morto Sono Non morto Vabbè ragazzi Sono Le undici Passate Il massimo È la massima Battuta Che posso fare Bastardo No Sono scomparsi Tutti gli animali Non so che Ti li abbia Fatto Zappa Sono Sono scomparsi Sia la Lucertola Che Sì vabbè Mi stanno stuprando C'è la lucertola Che arresto Ti sento laggare Ti sento laggare In che senso Mi vedi laggare il video O senti laggare la mia voce E magari è l'audio del gioco Che è troppo alto Super strage E ce n'è uno dietro Cazzo E rotola Vabbè Va Non è giusto C'era una lucertola Un eserciere lucertola Aspetta Come controllare Fammi abbassare Il volume del gioco Dai Opzioni Allora Audio Facciamo Un po' così Vediamo Un po' Se va meglio Alla Ok Aspetta Passiamo ancora un pochino Adesso morirò sicuramente Infatti mi stanno già Menando Alla Alla Opla No non mi stanno menando Che culo Dove vai Bellezza in bicicletta Mazza qua Che culo che c'hai però Piccione E mi Ho paura che Potrebbe essere ragazzi Ed è un po' che non vedo la lucertola Però era soltanto una lucertola Ora Godzilla Godzilla ci insegna Che sono Ermafroditi Ma Godzilla è un film Spero che non faccia figli Altrimenti mi ritrovo veramente La casa piena di lucertola E il mio gatto Non è abbastanza giovane Da farle fuori tutte Sarebbe un bel problema Dovrò chiamare tipo La chiappa lucertola Ma se le stiamo prendendo Veramente di santa ragione Non come prima Non lo prendo neanche Se prego in giapponese Quel cavolo che mi faccio prendere Da te Piccione Vieni qua Vieni qua Dove sei? Che cazzo sei? Ti ho visto Ho visto un pezzo Della tua ala Chivata Mi faccio qualche fritta Ah Delle uova Chifo Uova di lucertola Boh Ne so quanto sia Non buono Magari sono buonissime Mai dire mai Prendiamo il colpo Di culo Sì ma non puoi Non puoi esserci sempre Cavoli Ok almeno uno Me lo sono portato Nella tomba Dai tre Due E che cazzo Mancava poco Mangiano le mosche Che si infatti L'ho tenuto apposta Per quello Perché mangiano le mosche Gli insetti Penso anche ragni Perché una volta L'ho vista Che c'aveva un pezzo Di ragnatela Sulla zampa Quindi magari Ha mangiato un ragnetto Io non sarò Quello che la bloccherà Assolutamente Mi fanno schifo i ragni Quindi Se li mangia Mi fa solo un favore Vieni qua Mi hanno fregato la kill Questa era la mossa Del koguaro in amore Non lo so Dovrei provare Effettivamente Enea Potresti aver ragione Sai Potrei farli cadere Un po' difficile colpirli Ma Mai dire mai Disse un saggio Ah è vero Cavoli Enea Mi erano dimenticato Di prendere il piccione Adesso muoio con questo E prendo il piccione Ciao ragazzi Sono Mastro Lindo Guarda qua Che tette È tutto muscolo Vediamo cosa abbiamo Abbiamo Un pipistrello Uno di quelli strani E poi ci sono io Ok Allora Dobbiamo capire Dove cavolo Si sono Infrattati Un saggio detto Ariman Assolutamente Un saggio a casa Ciao Cazzo Che vado in mezzo A voi Siete 300 Mi avresti aperto il culo Vai strage Totale Non ho capito Un cazzo Di quello che è successo Ma qualcosa ho fatto Ho fatto una kill Ho fatto una kill E basta Peccato Pensavo di aver fatto Una strage Mannaggia C'è costata due vittime A noi Oh la peppa Che colpa E giro giro Tondo Casca al mondo Una fontana di sangue Epica Faccio un bel bagnetto Mi sa tanto Che questa è tipo Una città dei vampiri Io la butto lì Adesso li prendo da dietro Ciao ragazzi Guardalo lì Il piccione Osti è vero Mi dimentico sempre Adesso muovo Guarda Ok sono morto Prendo il piccione Cosa fa sta qua Allora Decolliamo Vediamo un po' Di quota Perché mi hanno già Preso di mira Non riescono a colpirmi Sono troppo veloce Non mi hanno fatto Neanche tirare il colpo Con Con la lata Cazzo Che dolore Sì ma i miei Sono dei rincitrulliti Ho fatto solo una kill io Va bene Ho già capito Come andrà Questa Questa Battaglia Questa sfida Tanto dolore Aia Adesso Adesso ne prendo alcuni Il problema è che Si sono proprio Maronna mia Che dolore Che fanno Però Dolorosissimi Siamo in due Grazie al cavolo Ancora La gente Slogga Quitreggia E grazie al cavolo Che poi Si perde Aspetta va Vabbè Facciamo così Porca Troda Non abbiamo fatto Neanche una kill E questo stronzo Qui Grazie Gnam Bello Mi voleva Manzare Star Wars of the The Old Republic Assolutamente Si Certo che lo so cos'è Però faccio un po' Confusione Con tutti i titoli Di Star Wars Che sono usciti E il Quello Il Morp Non so cos'è successo Ahia Eh cavolo E il Morp Oppure il Quel gioco RPG E basta In Offline Oh La gente è arrivata E si incomincia Si incomincia A far dolore Bene bene Basta Vedere cosa fanno Gli altri Vorrei capire Dove si trovano Gli umani Ok Ok ho capito Dove si trovano Gli umani L'MRPG Si si lo conosco Non ci ho mai giocato Ma ne ho Ne ho visto Ne ho sentito parlare E free to play Mi pare Bellissimo Quel colpo Ragazzi Bellissimo Si Cosa fa E ovviamente Il mio personaggio Si incasina Contro La La tenda Vabbè Gli darò Un'occhiata A Eneas Darò Un'occhiata Anche se ti dico Gli MMRPG Non mi fanno impazzire A un certo punto Mi stufano Mi stufano Abbastanza In fretta O sono Abbastanza Tra virgolette Frenetici Accessibili Che non ci sono Troppi casini Smenate Allucinanti Oppure Mi stufano Abbastanza In fretta È che posso fare Tutto io Però Eh cavoli Ti vuole anche qualcuno Che sfonda Ah no Io non vado lì Ti vuole anche facendo abbastanza cacare alchimista di cosa? di questo gioco? andiamo vola vola piccino peccato che non l'ha ammazzato no non ho preso nessuno e mi si è anche incasinato il pig vola 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 ciao eneas buonanotte buona serata quindi è quello che vuoi fare eeeh ciappa l'aragosta no non ha ciappato l'aragosta non ho preso niente eh vabbè abbiamo perso mi tufferò qua mannaggia mannaggia battericamente adesso dovrei avere ottenuto un'altra di quei oggetti ma no 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 quanti cavolo di livelli devo fare che cavolo di livelli devo fare? pam 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 ah ragazzi una cosa che ho notato eeeh state attenti a non usare eeeh canzoni appunto sotto copyright eeeh negli stream perchè eeeh purtroppo eeeh anche se voi caricate la eeeh la replica su youtube il bot mantiene la la traccia audio disattivata la mantiene disattivata non è che se la trasferita su youtube viene riattivata rimane così è come se proprio la replica viene tagliata viene tagliato l'audio in quel punto la io pensavo che caricandola direttamente subito una volta terminata la live su youtube si potesse diciamo bypassare il bot invece no purtroppo il primo al bot controlla e poi tu puoi fare qualsiasi altra cosa quindi state attenti adesso userò il ciccio ciccio picciccio che bello che sono faccia intelligente allora qua qualcuno adesso mi deve dire dove sono i simpaticoni lampi sul ok eccoli la gli arrivo da dietro anzi da davanti così si fa e poi si ammazza ok questo è mio orcat era mio vabbè questo è mio allora vieni qua gnam gnam tanto 12 xp così poco lì c'è qualcuno mi dispiace ma sono arrivato io siamo un po' tantini eh siamo un po' tantini forse un po' squilibrata adesso eh allora visto che stai rantolando dal dolore io ti mangio dove sono spawnati ah ok eccoli la sono spawnati la in fondo tutti la mh il nostro piccione mi sa che fa una brutta fine quanto mi piace succhiare il sangue quanto mi piace succhiare il sangue ma sto copione qua forse mi piace salgo sul campanile così posso vedere dall'alto ma si sono infilati qua dentro no no sono sbagliato di qua eccoli la se lo prendo dall'alto dap ahahahah come hai fatto Elia Bragg stai rompendo il gioco ahahah vai contro le leggi per la serie il cucchiaio non esiste puoi piegare le leggi a tuo vantaggio e Elia Bragg si prende il nos si prende oh guardali la cavoli muro di merda mio però stanno resistendo mica male eh gente che ci sa fare comunque comunque siamo in di più dovrebbe essere abbastanza semplice tutto sommato mi sa che pioverà stanotte che bello proviamo proviamo da qui attacco plutonico anche planetario doppio no e lo volevo io mi mangiano tutte le tutte le prede mi mangiano io devo ammazzarli tutti e poi arriva il tizio ti mangio la la preda eccoli la tranquilli che arriviamo non c'è fretta eh stai lì eh cavolo ciao mi hanno ammazzato non ero morto neanche una volta sig ah guardalo la guardalo la guardalo la adesso li prendo dall'altra parte faccio il giro lungo ma non è morto non ce l'ho lasciato io non è giusto ma ciao ne valsa la pena stiamo stravincendo to the fight to the fight guardale là guardale là e ti mangio ma tu sei stupido a venirmi addosso ma forse non tanto stupido ero riuscito ad ammazzarmi c'era la frusta mi ha dato un colpo di frusta è veramente potente quella frusta così vedo già dei colpi che mi arrivano addosso eccoli guardali la 1 2 merda volevo fare l'unplay ok 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 Ahia, ahia. Ok, direi che per stasera basta, dai. Abbiamo ammazzato abbastanza, mi sento abbastanza soddisfatto. Va bene ragazzi, grazie di aver seguito la live, spero che vi siete divertiti, vi rimando come al solito a una prossima live che sarà magari domani sera, domani pomeriggio non penso, comunque c'è un parecchia roba da fare. Eh, domani sera vediamo su che gioco, chi lo sa, cosa mi verrà in mente di fare, lo farò. Spero che vi siate divertiti e vi auguro una buona serata o buona notte o qualsiasi cosa voi volete fare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.